Sono un nuovo general manager dell'Axel, da questa stagione 2013-2014 eredito una pista da pattinaggio su ghiaccio che come scuola ha il maggior numero di tesserati d'Italia, sono circa mille. Come tutti i manager devo fare sempre i conti, quindi i numeri, quindi il mio obiettivo fondamentale è di mantenere questa eredità, ma cercare di andare anche un po' fuori, e questo è anche l'obiettivo di questa scuola di pattinaggio, l'Axel di Roma, cercare di stravolgere quella che non è una tradizione per Roma, ovvero portare maggiori risultati dal punto di vista agonistico, quindi lavorare grazie alla nostra direzione tecnica, cercare di lavorare per migliorare e cambiare la tendenza che non è tradizionale a Roma portare risultati sul pattinaggio su ghiaccio.